Il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto il Torino e lo ha fatto con una prestazione del tutto convincente, è successo tutto nel primo tempo, 3-0 con gol di Anghisato, Pietta è una bellissima rete di Kvaraschela in contropiede servito perfettamente da Zilinski con un gol che ha accorciato le distanze al 45esimo di Sanabria per quanto riguarda il Torino, un secondo tempo invece di pura gestione a parte qualche minuto di sofferenza, di pressione avversaria. Veniamo però alle pagelle, 6,5 per Alex Meret, sempre pulito nelle sue uscite per quanto riguarda anche alcune parate, la prima nel primo tempo con un tiro da fuori aria, dentro l'aria invece nel secondo tempo a sventare tra l'altro un pericolo clamoroso, cioè la possibilità che all'ottantacinquesimo il Torino si facesse sotto segnando il gol del 3-2 che avrebbe praticamente donato ultimi 10 minuti davvero di sofferenza alla difesa azzurra e a tutti i tifosi presenti al Maradona. Sempre sicuro qualche sbavatura sulle uscite nel primo tempo ma soprattutto grazie all'ottima pressione, all'organizzazione, la distribuzione del pressing organizzato del Torino. 6,5 anche a Di Lorenzo, il capitano sempre presente, il suo apporto al gioco è davvero importante, gioca davvero da veterano, si posiziona sempre con il corpo perfettamente rispetto al pallone, rispetto appunto al gioco, si orienta in base ai compagni e viene dentro al campo in modo davvero meraviglioso. 6,5 al capitano Di Lorenzo, 6 invece per Rachmani, partita comunque solida e riuscito a sventare qualche contropiede, sempre molto molto sicuro di sé nell'uno contro uno che infatti accetta senza alcuna riserva, è davvero un calciatore tatticamente cresciuto moltissimo. 7,5 invece per Min Jae Kim che nonostante qualche giocata in anticipo magari un po' forzata che gli impedisce di prendere l'uomo che poi gli arriva alle spalle, sempre in grado di recuperare, talvolta tra l'altro mette una toppa anche sugli errori degli avversari cercando di arrivare alle spalle di Rachmani ma anche di Mario Rui lì sulla sinistra, interviene nel gioco aereo praticamente il 100% delle volte ed è bravissimo nella difesa della porta e del pallone, ha usato soprattutto nel secondo tempo il corpo come una vera e propria leva impedendo totalmente in modo quasi robotico, roccioso al giocatore avversario, ai giocatori avversari di poter prendere il pallone soprattutto dei lanci dalla difesa. 7,5 allora per il coreano per quanto riguarda Mario Rui 6,5 in primo tempo davvero di dominio per quanto riguarda il possesso palla e in fase di possesso il portoghese davvero elegante strepitoso nei suoi lanci, proprio da lui parte il cross del primo gol di Zambo Anghissa un cross perfetto, deliziosissimo che poi ha semplicemente permesso il vantaggio del Napoli che è stato probabilmente il gol più importante di tutti gli altri due. Per quanto riguarda appunto la prestazione generale di Mario Rui si può dire sicuramente che il giocatore è andato un po' in difficoltà per quanto riguarda il non possesso, suo l'errore per un tentativo di un tacco al volo sul gol poi di Sanabria dell'1-3 ma comunque insomma la responsabilità è un po' di tutta la linea e il cross tra l'altro da parte del Torino era anche ben effettuato, comunque 6,5 sufficienza piena per Mario Rui stessa sufficienza anche per Lobotka e per Zielinski partiamo dallo slovacco centrocampista che come al solito è stato un metronomo puro della squadra di Luciano Spalletti anche quando oscurato riusciva nei suoi movimenti anche senza il pallone a dare praticamente luce ai compagni ed era lì che si inseriva proprio Piotr Zielinski di cui parliamo adesso Zielinski 6,5 anche egli come detto, un giocatore fantastico quando danza sul pallone nei suoi strappi elegantissimo nel primo tempo dove trovava spazio lì si infilava e proprio questa fluidità nel cercare, nel trovare spazio è stata davvero fantastica e molto apprezzata anche da Spalletti nel post gara sicuramente ieri Zielinski infatti è stato uno dei migliori per quanto riguarda il centrocampo che in effetti è stato il reparto più importante del Napoli 8 però lo merita Frank Zambuanghissa, un calciatore che ha sempre dimostrato tantissima quantità ma quest'anno arriva anche al gol, il terzo gol stagionale dopo il gol al Liverpool tra l'altro molto simile anche al secondo, un gol sotto le gambe e un gol di testa quindi tantissimo nel suo repertorio, tanta quantità, tanto fisico, tanta corsa, tanta vemenza tantissimo sacrificio nei confronti dei compagni ma soprattutto tanta qualità e visione di gioco si sta anche innamorando degli spazi da riempire, della fluidità del gioco del Napoli che appunto sta diventando sempre più totale andando avanti 6.5 per Kvaraskelia, giocatore che come al solito sappiamo essere delizioso nel dribbling si è un po' intestardito e stancato magari nel secondo tempo fondamentale anche chi nel primo, tantissime corse più in avanti che indietro probabilmente tantissimo sacrificio, bellissimo anche il gol Spalletti lo aveva richiamato poco prima perché non si accentrava abbastanza meglio perché si accentrava troppo e in realtà quello che poi è andato a fare Kvaraskelia è stato un contropiede proprio lì sul largo e di sinistro abbattuto Bagna, Milinkovic, Savic per il gol del temporaneo 3-0 strepitoso come al solito, Kvaraskelia, sempre importante 6.5 per lui, un bel 6 invece a Raspadori sempre meglio nel suo articolare il gioco del Napoli venire dietro a cercare di dialogare con i compagni e raccordare un po' tutta quella che è la manovra offensiva quindi molto bene da questo punto di vista, un po' meno, un po' timido da un punto di vista offensivo 7 invece per Matteo Politano una partita davvero splendida doveva praticamente essere assente perché aveva avuto contro il Milan una distrazione a legamento peroneo-astragallico anteriore destro nonostante questo si è presentato in campo ha giocato più di 60 minuti ed ha giocato davvero in maniera egregia fantastiche alcune sue ripartenze ma anche alcuni suoi recuperi proprio in un recupero finale lui si è accasciato a terra stremato, stanchissimo ed è stato sostituito da Irving Lozano davvero strepitosa gara di Politano che è riuscito molto spesso a sgusciare via dagli avversari ad accentrarsi e anche in un caso a rendersi pericoloso con un tiro che poi è finito sull'esterno della rete alla sinistra di Milinkovic Savic venendo alle sostituzioni con Simeone, con Lozano, con Don Belé con Elmas e con Oliveira solo due possiamo notare con voto sono Lozano e Don Belé Don Belé è un po' meglio per fortuna questa volta l'abbiamo visto in effetti in campo con dei titolari con Lobotka da una parte e con Anguissa dall'altra poiché ha preso il posto di Piotr Zielinski ha giocato una buona partita però si vede che ancora è molto individualista e che ha bisogno di creare un'intesa importante con i compagni che ha trovato finora e abbiamo visto in un'occasione solo con Anguissa uno scambio bellissimo poi un tiro che però è finito altissimo praticamente in curva B per quanto riguarda Lozano tante buone giocate un tiro importantissimo che poteva valere 4 a 1 parato bellissimo da Vanya Milinkovic Savic adesso il Napoli affronterà martedì l'Ajax per quanto riguarda la terza gara del gruppo A della competizione della Champions League per adesso un saluto da Mattia Pele be strong